Sicuramente per prepararsi al GDPR lato partner, quindi coloro lato canale, coloro che dovranno andare poi dal cliente a spiegare quello che c'è da fare, quello che è necessario da fare, è sicuramente iniziare a capire realmente come la GDPR funziona. Quali sono i punti chiave da toccare con il cliente, evitando di parlare delle solite cose, cioè delle sanzioni, del furto, ma cercare di spiegare al cliente che l'approccio alla GDPR deve essere un approccio integrato, un approccio di processo e un'analisi prima di tutto di quello che sono i dati all'interno dell'azienda. Questo è sostanziale per poi aiutare veramente il cliente a crescere e a essere compliance con quello che sono le regole che la GDPR richiede. Il ruolo di 3Micro sicuramente può essere quello di Security Advisor, quindi aiutare i nostri partner a crescere in questa conoscenza tramite i nostri distributori, tramite Arrov, cercare di istruire e portare queste informazioni sul canale e essere a fianco dei nostri partner per aiutarli a definire questi progetti di valutazione dei rischi circa la gestione dei dati personali all'interno delle aziende. E logicamente offrire, così come offriamo, una serie di prodotti, oserei dire, unica sul mercato oggi per la ampiezza e per la copertura di quelle che sono le richieste che la GDPR sta facendo. Grazie a tutti!